Alla fine si è un po' calmata ed è rimasta a dormire da me, l'ho riaccompagnata a casa la mattina dopo quando ci vediamo dal vivo e ne parliamo finora, sono riuscito a migliorare un po' la situazione ma invece quando da sola tende a incastrarsi in un loop di pensieri negativi che fanno ripeggiore la situazione, non so come fare perché fino a lasciare spazio non sembra aver migliorato la situazione, lei dice comunque che ha voglia di uscire, fare cose per distrarsi ma non con me. E questa qua è un'altra delle cose che mi va a riconfermare sia del bisogno sia anche di relazione impostata male su alcune cose. Se sei nuovo qui io sono Luca, fondatore di approccialla.it, un'azienda in formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Per esempio, che attività facevate? Tutte le volte che vi vedevate? Varie nel senso allora, non so, dalla cena al bar al appunto andare in montagna, abbiamo fatto vacanze. Vacanze dove e quante? Allora, abbiamo fatto una lunga a Marrakesh una settimana, poi siamo stati a Firenze tre giorni, poi siamo stati un giorno in un hotel a fare così una giornata a spa. Beh, e poi vabbè, varie uscite di una giornata comunque in montagna, anche lontano insomma, più o meno questo. Ok. Prova a pensare se ti viene in mente altro? No, no. Ok. Se è così, è poca varietà, che sicuramente è un po' di più rispetto a altre persone che non hanno idea di niente riguardo alle relazioni, ma comunque è poca varietà. Io ogni settimana, per me la ragazza, cerco di fare sempre attività diverse, che magari ci può stare il weekend dove non si fa niente, si sta tranquilli, eccetera, però c'è una ricerca attiva tutte le volte di fare cose nuove, cose diverse. Deve volte possono essere delle attività, deve volte potrebbe essere semplicemente un ristorante nuovo, te le provo a sparare così a caso, in base a quello che mi vengono in mente, in un anno e mezzo di relazione. Beh, ogni tot andiamo in vacanza in un hotel, per magari un giorno, due giorni, adesso ne abbiamo fatti quattro, cinque, sei, non so, non mi ricordo i dettagli, però sono già sei, in realtà, diversi. Siamo andati in una cosa che si chiama Smash Room, dove tipo, c'è uno spagli per spaccare una stanza. Ok. Siamo andati dal parco acquatico, siamo andati sul jet ski, siamo andati dal fare safari nel deserto, siamo andati in un... come si chiama, non so, un parco divertimenti, dove ci sono le montagne russe più veloci del mondo, siamo andati in un posto, si chiama Global Village, qua Dubai, che è una specie tipo di expo, tutti i vari paesi, non la faccio lunga, però è una specie di expo, misto a un parco divertimenti, siamo andati all'expo, non c'era l'expo l'anno scorso, siamo andati a fare la cena in barca, siamo andati sui trampolini, ci sono delle robe, tipo i trampolini, quelli dei bambini, però, per adulti. Ok, ok. Siamo andati l'altro giorno lì al mare, ci sono tipo i confiabili sul mare, tipo mi sono mezzo ammazzato. Se vado avanti, pensando, magari se guardo anche il mio Instagram, ne vedo anche altre di cose, e se metto dentro anche i ristoranti, me ne vengono in mente tanti altri, c'è un posto che si chiama Game Zone, dove vai lì, ci sono sempre dei giochi, al bowling, al biliardo. E se mi metto a pensare, te le posso tirare fuori molte, molte di più, ma perché, ah, delle volte facciamo magari anche il, semplicemente magari, uno, due, barra tre weekend di fila, dove magari non usciamo e guardiamo soltanto magari uno qualche serie nuova, magari su Netflix, o magari una serie di film, tipo abbiamo fatto tre weekend di fila per guardarci tutti quanti film di Harry Potter, tipo altri tre weekend di fila in un altro momento per guardarci tutti quanti film di Harry Potter, tipo altri tre weekend di fila in un altro momento per guardarci tutti quanti serie di casa di carta. Ma no, certo, comunque noi uscivamo una volta a settimana, almeno in estate, andavamo in un posto diverso, in ogni caso, ma fare un giro in montagna, comunque sempre posti diversi, e tutte le settimane l'abbiamo fatto per parecchio tempo, insomma, poi vai, in inverno abbiamo cambiato tipo di attività, però magari andavamo in palestra, o comunque, insomma, sì, cena fuori, diversi. La cosa dei ristoranti, comunque, cioè, alla fine è una categoria, quindi... No, no, certo, certo. E anche lì, la cosa in montagna, ok, andate in posti diversi, ok, va bene, però alla fine c'è sempre una categoria, quindi cerca di variare di più, chiaramente, adesso è risolvibile fino a un certo punto, e ci può essere sicuramente molta più varietà, ma perché c'è uno sforzo attivo, cioè, se tu vedi io c'ho una lista di cose, di attività da fare, che possono andare avanti per anni, ma poi la vado a riaggiornare, in base a cose che mi vengono in mente, in base a cose che vedo durante le mie giornate, in base a delle ricerche che magari vi metto a fare delle volte, in base a conversazioni che abbiamo, quindi, è una cosa che raggiungo costantemente, se no, fare un'attività nuova a settimana è abbastanza complicato. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti letto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione.